Mi chiamo Alfredo Lontani, sono nato l'8 dicembre del 1933 a Ravenna. La mia famiglia risiedeva a Savio, mio padre era ferroviere, per i primi di dicembre ci doveva essere l'inaugurazione della direttissima, mia madre partorì e allora siamo venuti a Prato il 26 gennaio del 1934. Mi partecipo ad Archivi Domestici per raccontare assieme a mio nonno Alfredo Lontani una serie di storie che si legano alla sua infanzia, alla sua adolescenza e che costituiscono memoria storica del territorio pratese. Molti di questi episodi si ambientano durante il periodo della seconda guerra mondiale lungo la direttissima Prato-Bologna. Grazie! 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 Grazie!